Essere qui è decisivo, è decisivo perché la pace è stata spunta dal nostro vocabolario e la pace deve riprendere, a parlare, a esistere, a essere nel cuore dell'agenda della politica. Invio delle armi sì o no? Qual è la posizione di Sant'Egginio? Io credo che ogni popolo e soprattutto gli ucraini aggrediti hanno diritto a difendersi, ma non si può solo investire sulle armi, bisogna anche investire sulla diplomazia perché ci troviamo in una situazione di inanismo della diplomazia.